C'era una volta, e c'è ancora, una città di nome Amelin. C'era una volta, tanto tempo fa, un pifferaio che suonava una musica magica. E quella volta, tutti i bambini incantati lo seguirono. Allora... Amelin, la città del silenzio, scritto da Alice Barberini e illustrato da Alice Barberini. Edizioni Orecchio Acerbo Mio nonno era il più anziano della città e abitava qui da sempre. Lo chiamavano lo zoppo. Non potendo camminare bene, sin da piccolo aveva imparato la magia delle mani. Costruiva orologi e giocattoli meccanici, così i bambini della città potevano divertirsi per conto loro. Perché ad Amelin ognuno trascorreva il tempo da solo. I bambini non potevano mai giocare insieme. Al nonno chiedevo, perché? Allora lui mi raccontava una storia che sapevo solo io. Era una storia accaduta prima che io nascessi. Anche a quel tempo in città c'erano molti bambini. Ma il loro rincorrersi per strada veniva chiamato Baccano e i loro giochi, perdita di tempo. Così un giorno i grandi dissero, vietato. Finché una notte arrivò un pifferaio. Suonava una musica di festa e tutti i bambini scesero in strada. Il pifferaio li lasciò cantare e ballare fino al mattino. Eppure una volta disse vietato. I bambini lo seguirono mano nella mano e non tornarono mai più. Da allora fu proibita anche la musica. Amelin divenne così la città del silenzio. Rimase un unico bambino. Aveva una gamba malata. E quella notte fu troppo lento per rincorrere il pifferaio magico. Lo chiamavano lo zoppo. Così finiva la storia che mi raccontava sempre il nonno. La musica è vietata in tutta la città. Una sera dopo il racconto mi addormentai. Più tardi mi svegliò il suono arrugginito di una vecchia ruota. Proveniva dalla strada. Era un suono ritmico, come una melodia. Pensai al pifferaio. Mi ranicchiai sotto le coperte e aspettai. Fin quando non mi sembrò lontano. La mattina dopo, nella piazza, vidi un uomo. Aveva un curioso congegno che suonava una musica di festa e di giorni felici. Anche il nonno lo vide. Che ci fai qui? Disse all'uomo. Vattene! In questa città non ti vogliamo. Lui sistemò le sue cose e si allontanò. Ma il segreto rimase in città. Lontano dagli occhi del nonno. All'ombra delle case io osservavo quell'uomo e la strana macchina che aveva con sé. Nascosto, ascoltavo la sua musica e guardavo le persone intorno a lui. Qualcosa stava cambiando. La musica è vietata in tutta la città, ripeteva il cartello. Anche in me cambiava qualcosa. La notte sognavo di giocare in strada con gli altri bambini e la musica suonava dalle finestre di Amelin. Poi un giorno, l'uomo con la macchina che suonava mi venne vicino. Suonò per me e io scoprì di non averne paura. La musica mi rendeva felice. Ma dalla finestra il nonno sentì la melodia di molti anni prima. Scese in strada e con il bastone fece a pezzi la macchina che suonava. «Perché quella notte non mi hai portato con te?» gridò. L'uomo rispose «Per far giocare ancora i bambini che sarebbero nati in questa città». «E i bambini di quella notte? Dove sono andati?» chiesi io. «In tutta la musica del mondo», mi rispose l'uomo. Pensai agli altri bambini di Amelin, che avevo sempre visto solo attraverso le finestre chiuse. Così dissi «Aggiustiamo la macchina!» Il nonno disse «No!» Ma quella notte sentì il nonno armeggiare con i suoi strumenti e gli ingranaggi. Poi mi addormentai, cullata dal suono di un flauto che si allontanava. La mattina dopo ci svegliò la magia della macchina che suonava. Uscimmo tutti fuori. Da quel giorno le strade della mia città non furono più le stesse. Pagano Non furono più le stesse. In un paese insieme non furono più le stesse non furono più le stesse o la mia città ora è un paese che